Sentiamo tutti i giorni parlare delle problematiche che affliggono commercianti, artigiani, imprese, insomma attività produttive. Ma chi è che a livello locale deve occuparsi di questi problemi? Ne parliamo oggi al caffè della domenica mattina, sponsorizzato dall'amico Beppe di colazione da Tiffany, subito dopo la sigla. Buongiorno amici di Obiettivo 100. Giorgio e Nicola vi offrono questa dose di buon umore. Mettetevi comodi, rilassatevi mentre bevete dalla vostra tazzina. Perché il caffè più buono è solo quello della domenica mattina. Nuova domenica, nuovo caffè amici di Obiettivo 100. Finalmente è finito il carnevale, ma non le carnevalate. Infatti noi siamo ancora qua e siamo con un ospite che è nato con la camicia. L'assessore all'attività produttive Filippo Taddia. Grazie, grazie. Buona domenica. Tutti commercio e attività produttive, dico per la prestazione. Sì, sì, ma il commercio penso che lo sappiano... Penso che sia una notizia nota, anche attività produttive in effetti. E le attività produttive sarà proprio l'argomento di questa puntata. Noi penso che sia l'ultimo che ci mancava... Infatti stavo esattamente pensando questa cosa, era l'ultimo pezzetto della giunta che ci mancava da intervistare. Insomma, dopo la politica locale penso di 100 perlomeno l'abbiamo avuta bene o male tutta. Adesso abbiamo... ci mancava solo il più colorato. Ecco, esatto. Il più colorito. Quindi, come potete vedere dalla giacca, la camicia è rigorosamente bianca, perché normalmente non ce l'ha bianca, però per l'occasione è finito anche lui, come noi due sul testamento di Tasi, quindi ci sembrava l'occasione giusta per chiamarlo. Sono andato a comprarla questa camicia perché non avevo camicia bianca nel guardaroba. Quindi Tasi è mendace, cioè dice che lascia la camicia, ma poi in realtà non la lascia davvero. No, è che ha lasciato il portafoglio a Gianni Fava, quindi ce l'ha dovuta comprare lui. La Catueng. Esatto. Ma lasciam stare subito il testamento? No, esatto. Andiamo a finire. Allora, l'ho definito, comunque chiudo sulla giacca più volte come Barbieri, lo chef, perché condividono la camicia, quindi adesso ci spiega come fai i tortellini. Allora, so che ci vale una giusta dose di sale, perché Barbieri... Esatto, poi non so cos'altro vado nei tortellini, ma ci sono molti ristoranti a Cento dove fanno ottimi tortellini, quindi andrò a mangiarli lì al più presto. È meglio che farli. Anche le nove e mezza di sera potete trovare aperti, nonostante qualcuno sui social si sia lamentato di questa cosa. Come direbbe Barbieri, wow. Esatto. No, scherzi a parte, ci piace scherzare perché l'assessore comunque ha un buon umorismo e che non fa mai male perché c'è tutta questa gente sempre arrabbiata sui social e tutto così, almeno lui sorride spesso. Però la prima domanda è esattamente come è arrivato a diventare assessore, quali sono state le caratteristiche. Allora, spero solo perché sa fare bene i tortellini. No, no. Se era per quello direi che non c'erano speranze. No, allora, perché sono diventato assessore andrebbe rivolta la domanda al nostro primo cittadino, visto che come voi sapete, magari non tutti quelli che ci ascoltano lo sanno, però i consiglieri comunali sono eletti mentre gli assessori vengono nominati. Per cui io sono stato nominato, insomma, un annetto fa, nell'inverno scorso, come sapete, come è noto l'ex vice sindaco e assessore alle attività produttive, Vanina Piccariello ha abbandonato l'incarico per motivi personali e il sindaco di Cento ha ritenuto di venirmi a fare questa proposta. Io ho un passato nel commercio perché per una decina d'anni ho prima aperto, poi gestito una catena di caffetterie americane, avevamo tre punti vendita a Bologna, Ferrara e Firenze e almeno in due di queste città, tra l'altro, ho tentato di aprire comitati di via dei commercianti e comitati commercianti... Ah, cioè sei andato a litigare nelle altre città? Quindi ero proprio... Le vicissitudini di Cento sono tipo la legge del contrapasso, quindi adesso sto subendo lo stretto per l'intera eternità correre dietro a un cartello bianco come... No vabbè, a parte questo, quindi avevo questa esperienza commerciale, poi negli ultimi anni l'ho abbandonata per passare alla comunicazione digitale che è il mio lavoro attuale, io faccio comunicazione digitale in ambito culturale soprattutto, case editrici, festival eccetera e quindi mi è capitato in questa nuova veste di lavorare anche con l'attuale sindaco che prima di diventare sindaco anche lui si occupava della stessa cosa e quindi è nata un'amicizia, una stima, mi sento di dire reciproca, perché appunto... Quindi mi conoscevate prima. Mi conoscevate questo incarico, sì, sì, e io ho accettato l'incarico per la stessa ragione per cui credo mi sia stato proposto, ovvero per la stima che ho della persona e delle idee che comunque abbiamo condiviso, è chiaro che un incarico del genere non lo accetti a freddo, ci perdi tre giorni intanto a rifletterci su perché è piovuto, piove dal cielo, almeno nel mio caso, non ho mai fatto politica prima. Poi hai un'altra fase in cui comunque ti confronti per capire se le idee che puoi portare, se il contributo che puoi dare è un contributo utile e condiviso e poi al termine di questo percorso ci si butta diciamo nel mare, nell'oceano. Com'è finire in questo mondo che è anche e soprattutto un bel po' politico, per uno che la politica non l'ha mai fatta in buona sostanza? E' complesso, è complesso perché passi dal mondo diciamo, nel mondo dell'impresa normalmente è utile ciò che fai, cioè ciò che fai, hai l'idea, la porti a termine. Qui hai tutta un'altra fase, cioè devi non soltanto fare, ma prima devi preparare il campo a quello che vuoi fare. Quindi devi convincere le persone, tenere le relazioni, tenere i rapporti, perché mi sto rendendo conto, ma non soltanto nel mio assessorato, insomma è una cosa abbastanza normale della politica che non è soltanto l'obiettivo il tema, ma è come arrivi a quello obiettivo, come lo condividi con le persone che poi dovranno venire con te e seguirti. E' un tema non soltanto di consenso, ma anche di buona riuscita delle cose, è una sfida nuova, ho pagato un bello scotto su questo tema in particolare, perché sono persone invece un po' più pragmatiche, ma è possibile che un po' più di sangue, ho pagato un bello scotto, continuerò a pagarlo, però penso, insomma spero di aver creato e costruito delle relazioni buone con le persone con le quali ho a che fare, che non vuol dire andare sempre d'accordo, non vuol dire darsi sempre ragione gli uni gli altri, ma vuol dire confrontarsi e avere un rispetto reciproco anche di ciò che ognuno rappresenta, perché insomma io comunque adesso in questa veste rappresento i cittadini di Cento, quindi rappresento l'amministrazione comunale. Proprio in quella veste lì, infatti credo che forse questa cosa si può tagliare. Visto che hai parlato di pragmatismo, quali sono proprio da un punto di vista pratico se gli dovessi raccontare i compiti di un assessore alle attività produttive e al commercio? Ma guarda, il compito principale è l'ascolto, tu devi ascoltare tantissimi insulti, ma sì, anche gli insulti, perché bisogna anche avere a che fare chiaramente con chi, per anche giuste ragioni, voglio dire, può avere anche posizioni politiche, preconcetti, cioè nel senso comunque non sei obbligato a piacere a tutti. Però io ascolto tutti, mi sto impegnando a farlo, quindi stiamo girando parecchio anche con il sindaco per le attività produttive. sono molto in piazza, come Tasi non ha mancato di far notare, vado a tutte le inaugurazioni, sempre come Tasi non ha mancato di far notare, cosa però che dimostra che poi magari dopo, non so se ne parleremo più nel dettaglio, ma inaugurazioni in questo anno se ne sono state e tante altre ne stanno arrivando, cioè comunque c'è un fermento sia industriale che commerciale secondo me buono, dopo un periodo invece un pochino più complicato, non so appunto se dopo scenderemo in questa tematica e poi dall'ascolto parte la fase in cui si cerca insomma di trovare le soluzioni. Gli strumenti a disposizione di un'amministrazione comunale non sono tantissimi. hai la coperta sempre corta nei bilanci, hai difficoltà. Cosa che la gente fa fatica un po' a comprendere in qualsiasi materia che sia sport, commercio, strade, cioè la coperta è corta. Noi continuiamo a ribadirlo inutilmente però... Quello è un dato di fatto insomma. I bilanci pubblici sono difficili da reggere. E poi oltre al fatto che hai la coperta corta anche dal punto di vista normativo diciamo che ti devi muovere all'interno di perimetri che... A volte sono stretti. Sono stretti perché sopra di te hai una svariata serie di soggetti che ovviamente possono fermarti. Penso ad esempio, non so se dopo ne parleremo, il regolamento di D'Or, tutto il lavoro che è stato fatto di concerto con la soprintendenza. Per citare un soggetto dal quale ovviamente le decisioni, le cose che fai possono... Sì, van bene le idee, però poi dopo ci sono dei soggetti con i quali confrontarsi e tanti limiti a volte. Ne approfitto per provare a spiegare una cosa che secondo me non abbiamo mai toccato, nonostante i tanti assessori che sono passati da questi microfoni, però il fatto che un assessore non è che si ha stamattina e decide quello che bisogna fare o non bisogna fare, ha degli uffici dietro con cui si confronta e con cui cerca poi tecnicamente e legalmente di realizzare quello che sono un percorso, un'idea, insomma è strutturato. Quindi da qui la domanda è come sono i rapporti con gli uffici, il SUAP mi sembra che si chiami, l'ufficio commercio, è come dici tu, nel senso che a monte di questo c'è il discorso che un assessore sottostà i regolamenti come qualunque altro cittadino, quindi capita spesso ovviamente che l'attività commerciale, l'attività imprenditoriale ti avvicini e ti dica guarda sono andato nell'ufficio e non mi hanno fatto fare la determinata cosa, non mi hanno riconosciuto lo spazio di cui... è chiaro che vai, ascolti, interloquisci con gli uffici e cerchi di capire se esistono dei margini ma di fronte ai regolamenti non ci si può fare nulla, non esiste assolutamente e viva Dio che è così perché altrimenti saremmo altro che in una democrazia che l'assessore come dicevi tu vada e bussi alle porte e bussi alle porte e faccia cambiare le cose. Quindi il rapporto con gli uffici è anche sul rapporto di mediazione, fortunatamente noi abbiamo devo dire degli ottimi uffici, insomma abbiamo persone che lavorano bene, tanto, spesso si fa ironia su questo ma vi assicuro che c'è un lavoro, adesso se vedeste la mole di lavoro per dire che l'ufficio commercio sta facendo sulle pratiche della grandine, per dire che è stato un lavoro che i cittadini stanno molto apprezzando e hanno dato manifestazione di apprezzamento, ma provate a immaginare le centinaia di pratiche che vengono presentate, le centinaia di persone che vengono negli uffici a chiedere la propria pratica No, infatti noi cerchiamo di difendere questa scelta che avete fatto, ma cerchiamo di difenderla non perché siamo così amici, ma perché riteniamo che le nuove assunzioni che l'amministrazione Corsi ha fatto erano fondamentali, sono ancora poche. Sì, infatti volevo proprio dire questa cosa qua, che anche se nei nostri contenitori, l'abbiamo già detta diverse volte secondo me non fa male ripeterlo, comunque il comune di Cento di fatto ha poche persone che lavorano nei propri uffici rispetto a quella che è la dimensione, l'estensione del comune, delle cose da fare per cui secondo me è sempre bello quando si può dire e noi andare a chiedere a chi di dovere come lavorano questi uffici e ci viene detto bene, perché veramente il lavoro da fare è proprio tanto tanto e purtroppo anche lì la coperta è corta, quindi... Esatto, allora, visto che si parla di commercio, attività produttive, cerchiamo anche di fare una fotografia della città perché gli opposizioni definiscono Cento come morta, senza proprio neanche in pronuncia di diciamo morta, a me piace questa apocalisse ogni volta... Morta, deserta, insomma si sprecano aggettivi tradici... Sembra che praticamente siamo diventati un film di Clint Eastwood e quindi io chiedo all'assessore come va l'economia di Cento, cioè sia dal punto di vista produttivo, industriale, di commercianti cerchiamo di, velocemente, di fare un po' una fotografia di questi settori. Allora è una domanda a cui rispondere velocemente non è facilissimo. No, va bene, abbiamo... Ci provo nel senso che ci sono state una serie di difficoltà legate a tante problematiche che adesso si potrebbero elencare ma sono sempre un po' quelle, non vorrei neanche diventare banale, però abbiamo avuto il Covid, il caro bollette, l'aumento dell'inflazione, veniamo da anni di difficoltà. A cui si aggiunge il fatto che il nostro territorio per ragioni geografiche e logistiche è un territorio piuttosto difficile oggi. È un po' isolato. È un po' isolato, ma questo è una cosa storica. Oggi pomeriggio ho fatto una visita in Pinacoteca con i commercianti delle frazioni, proprio si ricordavano di quando gli artisti venivano a vedere Guercino. Ah, perché ci sono anche i commercianti delle frazioni, non solo quelli del centro storico. E poi anche questi sono riusciti a portare in Pinacoteca, ormai ci hanno portato tutti. Voi siete venuti, se no organizziamo una visita. Io non ci sono ancora andati. Allora organizziamo una visita per quelli che hanno ricevuto qualcosa da Tasi. Facciamo così. Ecco, potremmo fare così, sarà divertente. Esatto. È bello noi tre, Bucco, tutti in compagnia. Noi tre. Dobbiamo fare una foto di gruppo, effettivamente. E si ricordava di come gli artisti venissero con Guercino Vivente a vederlo, però venire a centro era impossibile, perché era ghiaccio, perché era fan. Quindi è un problema storico che si perde nella storia. Quindi questo sicuramente a fronte delle problematiche nazionali, generali, generiche, è un aggravante. Un aggravante, comunque una componente di sfida in più. Aggravante non mi piace, ma è sicuramente sfidante. Al lato di questo però c'è un tessuto commerciale e un tessuto imprenditoriale che da qui alle tre grandi città, cui noi siamo in mezzo, non esiste. Cioè intorno a noi è stato fatto uno studio già qualche anno fa, non mi dispiacerebbe neanche aggiornarlo, ma è molto interessante che era stato fatto, mi pare, dal Lions Club di Cento e dall'imprenditore centese per la cultura, proprio sulla situazione del territorio centese, e si faceva notare che ci sono 29 comuni intorno a 100, quindi fino a Bologna, fino a Modena, fino a Ferrara, più piccoli di 100, con un tessuto commerciale inferiore a 100, con un sistema di servizi nettamente inferiore a 100, perché non c'è un altro comune nel raggio di tot chilometri che abbia il sistema scolastico, il sistema ospedaliero, tutto quello che abbiamo noi. Questo fa sì che comunque la nostra piazza commercialmente rimanga una piazza attrattiva, dove periodicamente vetrine chiudono, perché purtroppo il commercio in sede fissa è cambiato negli anni, ma periodicamente vetrine aprono e delle zone industriali, dove se andate a farci un giro, lo dico a voi, ma lo dico anche a chi ci sta ascoltando, insomma ci sono, a parte che lunedì incontro un'azienda che si vuole trasferire a 100 e un'altra ci ha contattato proprio di recente. Ma sanno cosa gli aspetta? Non gli ho detto per il momento niente. Non è che gli siete andati a vendere, sì sì abbiamo una ferrovia, un heliport, abbiamo tutto. Per il momento no, per il momento no, però insomma è incoraggiante. Io trovo che sia ancora un posto dove si può fare commercio, dove si può fare imprese. Noi abbiamo avuto qua la Simona Salustro che ci spiegava, ci diceva il suo punto di vista, dicendo non ci sono più le industrie dei famosi anni 70, 80, quelli che hanno portato la centese fondamentalmente in serie C. No, la famosa età dell'oro di 100 diciamo. Però insomma io trovo che ci sia insomma una compensazione perché se forse i grandi gruppi industriali da 2.000-3.000 dipendenti vengono meno, però sono tanti poi gli altri gruppi piccoli industriali o piccoli artigiani insomma che fanno un bel numero di dipendenti. Perché adesso io facevo anche questo ragionamento qua, se negli anni 70-80 c'era questa industrializzazione di 100 però c'erano meno abitanti, noi quegli abitanti li abbiamo continuati ad aumentare vuol dire che da qualche parte vanno a lavorare. Quindi insomma nel territorio le aziende da qualche parte ci sono. Detto ciò, è proprio su questo, il comparto produttivo industriale è un comparto su cui 100 vuole continuare insomma a investire o si preferisce magari andare verso l'artigiano e investire in piccole aziende, investire poi per modo di dire perché non è che il comune può dare, però come logica intendo dire. Allora fatto salvo alcuni casi perché ci sono anche grandi aziende sul territorio e la rete è di aziende medie che secondo me hanno trovato anche la giusta dimensione nel senso che sono aziende che stanno lavorando molto nel 4-5.0 quindi si sta lavorando tantissimo, ripeto anche stamattina ne abbiamo visitato una con il sindaco ci sono delle situazioni anche di automazione veramente avanzate che da fuori fai anche fatica a immaginarteli quindi questo è secondo me la giusta dimensione all'interno del quale il territorio si sta muovendo la crescita delle persone è legata a mio avviso forse oltre che sicuramente la presenza del polo industriale quindi al lavoro anche la presenza dei servizi che come dicevamo prima sono molto ampi, molto vasti non ci sono altre altre cittadine qui intorno con lo stesso numero di servizi la sfida credo in un mercato che non guarda più soltanto alla provincia di Ferrara o al Triveneto come era qualche anno fa ma guarda al Brasile, all'India, all'Africa dove le nostre aziende esportano perché ci sono aziende di cento, col carnevale esporto in Brasile quello hai iniziato prima il carnevale importa anche dal Brasile è vero, forza umana secondo me è fare rete un po' di più che credo sia uno sforzo che cercherò di fare insomma in questo quindi generare ancora più contatti perché secondo me ci sono ancora un po' di situazioni di imprese che tendono per ragioni anche storiche a essere un po' autoreferenziali mentre invece dovrebbero trovare il coraggio di fare più rete e poi continuare a credere nel territorio ma, e poi vi lascio la prossima domanda credo che ci siano molte aziende che credono nel territorio prima dell'altra domanda c'è tantissimo entusiasmo prima dell'altra domanda approfondiamo questa cosa perché l'abbiamo chiesto anche ad altri ospiti l'imprenditoria locale è ancora capace di fare rete anche questa è una domanda complessa di fare rete fra imprenditori secondo me sì anche se c'è stato e siamo davanti come poi inevitabile perché questo lo decide il tempo è un cambio generazionale la rete dei padri adesso si sta ricostruendo come rete dei figli e la rete dei figli ha altre logiche altre dimensioni altri luoghi prima era tutto nei luoghi fisici adesso non soltanto quindi è una rete di tipo diverso c'è da capire c'è da metterla alla prova per capire se sarà più o meno rispondente alle nuove esigenze rispetto alla rete precedente vedo però in tutte le aziende comunque la volontà di fare qualcosa sul territorio cioè per la gran parte delle aziende che in questo momento sono a 100 essere o non essere a 100 fa la differenza loro qui vogliono stare è una notiziona nel senso che io almeno ho questa percezione incontro gente che mi dice ok abbiamo qualche difficoltà abbiamo la logistica ok se ne parla adesso in questo momento la difficoltà maggiore è trovare la forza lavoro perché da chiunque dal commercio all'industria non si trovano persone che svolgano lavori qualificati e anche ben pagati peraltro quindi c'è qualcosa nel sistema del mercato che non funziona che non funziona però la sensazione che hai è che per loro comunque stare in questa hanno un attaccamento un amore per questo territorio e questa cosa ovviamente forse proprio perché qua puoi anche non fare rete perché quella celebre battuta del cardinal Lambertini che i volferi so come dal vaga a Saint probabilmente tra l'altro io non l'ho mai detto ma faccio qua ne approfitto per fare insomma mettere la ciliegina sulla torta è vero negli anni 70 80 abbiamo portato la centesima in serie C ma cazzo adesso abbiamo portato la Benedetti in A2 cioè voglio dire non sarà calcio ma sarà basket ma sarà un valore dell'imprenditoria locale cavolo ma adesso al di là di queste cose te sei già andato sulle mega imprese siamo stati un po' sulla PMI le piccole e medie imprese così c'è una cosa che questa è proprio un po' più filosofica che a me ha sempre incuriosito perché Cento è una città dove spesso si sente forte la voce dei commercianti lo sappiamo però Cento è anche un tessuto che ha molti artigiani e come mai secondo te assessore c'è questa voce forte del commerciante e degli artigiani e alla fine non se ne parla mai wow allora per me io le ascolto allo stesso volume nel senso che per me sono due voci e non ascolta nessuno io metto le cuffie parla il commerciante parla l'artigiano che mi frega me no li ascolto tra l'altro con le cuffie e questa giacca sembra che stia partecipando una puntata di Sarabanda la indovino con due no penso che ripeto dal mio punto di vista ovviamente è un ascolto equivalente equipollente e ho tantissima tantissima relazione con i commercianti tanto quanto con gli artigiani che rappresentano ovviamente un tessuto altrettanto importante perché i commercianti si sentano fuori di qui più degli artigiani penso che possa essere proprio una una ragione metodologica forse forse gli artigiani sto filosofeggiando anch'io perché non so la risposta è proprio un ipote forse gli artigiani sono più forti o si riconoscono di più dal punto di vista corporativo quindi per dire il confrartigianato o CNA insomma chi li rappresenta sono strutture molto forti e noi teniamo molto le relazioni con loro e sono molto unite cioè partecipi ai loro conveni loro conferenze vedi che comunque c'è diciamo che nel commercio ci sono ovviamente le associazioni di categoria del commercio ma il commercio è un po' più eterogeneo è un po' più eterogeneo quindi è più sfuggente pensa che prima della nascita del comitato commercianti e voi voi ve lo ricordate bene il commercio centese lavorava per vie sì sì c'era il via Matteotti capisci che fai fatica a fare dei dei ragionamenti di centro storico quando hai una divisione del genere adesso fortunatamente a fianco all'associazione di categoria che già hanno una visione di insieme è nato il comitato quindi una struttura che io spero si allarghi ancora di più perché ci sono ancora delle vie poco toccate quindi che con il quale si può fare un ragionamento di centro storico che adesso con le nuove leggi regionali fra l'altro i nuovi fondi che la regione sta mettendo a disposizione in sostituzione della vecchia 41 diventerà necessario essere uniti pubblico privato associazioni di categoria singoli esercenti e quella roba lì fino a prima era difficilissimo perché non avevi i referenti può darsi che questa mancanza di struttura che fortunatamente adesso insomma si sta formando porti anche un bisogno diverso di usare la voce esatto di usare la voce un bisogno di visibilità che però insomma sembra proprio che il denominatore comune sia che si parli di impresa di commercio di artigianato di questo in questa fase storica in questo momento sia proprio quello di fare rete cioè adesso è un momento dove se si riescono a costruire delle reti con delle maglie resistenti ci sia più possibilità insomma di generare benessere per un territorio assolutamente questa è l'unica è l'unica non voglio dire speranza però è l'unica strada che noi dobbiamo dobbiamo percorrere è una rete dove il pubblico e il privato siano insieme perché quando si parla di commercio nel centro storico si parla di sicurezza si parla di viabilità si parla di attrarre nuovi investimenti si parla di ristrutturare i luoghi che ci sono insomma si parla di una serie si parla di eventi si parla di turismo ed è chiaro che adesso la nuova legge regionale appunto del quale stiamo stiamo aspettando le direttive ma c'è già lo spoiler la struttura no non è uno spoiler c'è già la legge proprio stiamo soltanto aspettando di capire come si declinerà ma penso che entro la tarda primavera ce lo diranno e parla proprio di hub usa il concetto di hub per dire che sono simili ma diversi a quelli che una volta erano i consorsi quindi mettetevi insieme presentateci un progetto per il centro storico di cento perché di cento progetti da mille euro l'uno non ne vogliamo più sapere ma vogliamo che tutti insieme un progetto di rete presentate un progetto di rete se ci presentate quello ne parliamo ne parliamo questo è il concetto che sta alla base della legge che non approfondiamo lo vedi l'assessore che va dal calzolaio e gli dice buongiorno salve sono l'assessore Taddia oggi dobbiamo fare un hub tra l'altro lui scherza però Tasi ci ha regalato le scarpe e io sono andato a intervistare per la nuova Ferrara un calzolaio che ha aperto in via Donati ti ha fatto un hub il fantastico Mirko esatto siamo andati anche noi a trovarlo un grandissimo vedi che è un assessore che sembra che dica solo che gira invece gira davvero allora avevo scritto una domanda ma già ha risposto cosa serve per rilanciare l'economia quindi abbiamo detto fare rete insomma secondo me è una risposta non so se vuoi corredare di qualcos'altro perché se no ti cambio la domanda prima cambia la domanda poi dopo che l'ho sentita ti dico se volevo corredare quella di prima perché noi abbiamo parlato di maglie in rete secondo me tu vuoi iniziare a parlare di camice vero non più che di maglie ne voglio aggiungere una proprio velocemente perché siamo ancora in odori di tasi quindi polemiche così ce n'è una che caratterizza proprio il commerciante del centro storico di Cento in cui la leggenda narra che non voglia fare di più di quello che fa normalmente questa è una cosa vera o falsa perché c'è questa leggenda è vero questa è interessante vedere un po' diciamo così noi vediamo questa cosa che spesso la gente lamenta il fatto che i commercianti vogliono di più ma quando poi viene data loro l'opportunità di fare di più e di ricevere di più e loro chiudono il negozio è vero questa cosa qui o è una percezione questa è una è una è il pallino rosso che gli sta arrivando qua del cicchino vedo è un laser chi è che mi sta puntando no bisogna io ho commerciato per molti anni e avevo un bar una catena di caffetteria come vi dicevo prima stare aperti la domenica stare aperti il giorno di natale stare aperti il giorno di pasqua è faticosissimo è faticosissimo o ci vai tu che vuol dire che non mangi i tortellini con la tua famiglia torniamo sempre lì dai tortellini che sono sempre i tortellini o ci metti qualcuno a lavorare al posto tuo ma lo paghi lo paghi maggiorato perché giustamente è un giorno di festa un giorno di festa quindi come i supermercati come quant'altro questa cosa bisogna che chi non commercia ed è abituato a lavorare dal lunedì al venerdì ma metti anche dal lunedì al sabato perché ormai tutti lavoriamo anche cinque giorni e mezzo o sei magari la giudica ma non la comprende la giudica ma non la comprende ed è una cosa sulla quale bisogna fare molta attenzione perché ragazzi quando arriviamo la domenica anziché stare a letto mezz'ora o ti devi alzare per andare a fare un'altra giornata di lavoro dove magari piove e quindi entrano poche persone o magari c'è il sole ecco questo è indubbiamente una cosa che va compresa compreso questo se devo parlare da persona che ha commerciato la regola del commercio oggi sarebbe non chiudo mai cioè non chiudo mai qualunque chiusura vuol dire togliamo Natale se vendi le scarpe però qualunque chiusura è sbagliata perché la persona deve venire nel centro storico e trovare le porte aperte il sabato la domenica il giovedì pomeriggio cioè in città nelle città funziona così è proprio una scelta di vita insomma non è diventa una scelta di vita devi iniziare a dire assumo il dipendente me lo posso non me lo posso permettere cioè sono sono situazioni molto 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 delicate però è in dubbio che è in dubbio che sia così cioè i ristoranti sono aperti il giorno di Natale a pranzo e sono pieni è un sacrificio però ci sono io sono convinto che se tutti insieme si lavorassi in questa direzione nel medio termine ne avresti un ritorno già nel medio termine la gente si riabitua al fatto che i posti siano sempre aperti sì penso che una delle problematiche confrontando le varie piazze adesso c'è molto il confronto con Ferrara soprattutto di sera così sia la mancanza di locali non di ristoranti di locali che alla sera tengono aperto in centro storico e che quindi veicolano la gente a vivere soprattutto però mancano ancora delle cose tra cui il teatro vedendo scherzando questa gliela risparmiamo sì esatto hai un pallino tu adesso però è insomma indubbiamente un problema quindi fare rete fare sinergia forse non bisogna caricare sulle spalle dei commercianti tutto il carico ideologico di dire il centro storico tiene chiuso alla sera perché i commercianti non hanno voglia d'altra parte forse la verità sta sempre nel mezzo che bisogna ognuno faccia la sua parte è proprio democristiano però dopo questa cattiveria che ho detto ne aggiungo una migliore dico che gli eventi che hanno organizzato i commercianti in centro sono stati anche durante il carnevale sono stati un successone sugli eventi bisogna sicuramente lavorare una delle cose insomma sulla quale stiamo stiamo cercando l'incastro i commercianti l'hanno giustamente chiesta a gran voce come dicevamo prima è stata proprio la calendarizzazione di questi eventi noi già un po' di tempo che ci vediamo frequentemente adesso nell'ultimo periodo abbiamo una cadenza quasi mensile e stiamo iniziando a mettere in piedi questo lavoro anche previsionale quindi parliamo cerchiamo di non arrivare all'ultimo minuto ma di mettere insieme le idee con un mese con due mesi con tre mesi d'anticipo è un lavoro che ci permette di arrivare a risultati come quello del carnevale che è stata una una perfetta fusione e permette dall'altro lato i commercianti di entrare un po' di più in contatto con quelle che sono anche le nostre difficoltà perché io non è che non calendarizzo tutto il 2025 perché mi dimentico perché forse a volte non è possibile perché l'anno scorso abbiamo fatto i sabati del guercino quest'anno li rifaremo ma per tutta una serie di ragioni l'affidamento sta andando in porto in questi giorni ma per ragioni utili ai sabati del guercino cioè nel senso che c'erano determinate cose da limare prima di fare l'affidamento l'affidamento è stato fatto adesso ci troviamo con due mesi d'anticipo a iniziare a parlare si incontreranno con i commercianti gli organizzatori lunedì a iniziare a parlare di quello che succederà a maggio anche in questo caso quindi la rete diventa una soluzione importante anche per capirsi esatto e questo è un aspetto un'altra cosa che sto facendo insieme all'ufficio commercio e uscirà credo pochissimo faremo un avviso pubblico di un sondaggio di mercato per verificare la presenza questo è spoilerone non so se avete il tasto per lo spoiler spoiler? qual è questo? ci sta dai sgommiamo uno spoiler esatto uscirà breve un avviso un sondaggio di mercato per verificare la presenza di soggetti che vogliono organizzare per noi un calendario di mercati straordinari cioè noi vorremmo poniamo la terza domenica del mese o il terzo weekend del mese come idea ma poi potrebbe cambiare al netto del carnevale al netto di dicembre quindi per 7-8 volte l'anno avere sulla nostra piazza dei mercati straordinari beh bello bello io metto l'applauso perché svegliamento food insomma tutto quello che ha io il mercato del giovedì non lo vedo dai tempi che facciamo fuga a scuola superiori quindi quindi niente questo è un lavoro che va nell'ottica dell'organizzazione perché è chiaro che se riusciamo a fare questa operazione che sarà un po' lunga però se riuscissimo davvero ad arrivare a dire la terza domenica del mese tutto l'anno succede qualcosa in piazza è chiaro che inizia a essere un patto dove secondo me possiamo dire il comune ha fatto una parte cioè garantita un'animazione con tutti i soggetti del terzo settore o meno che vorranno partecipare all'avviso potrebbe essere che l'altra parte del patto sia ok noi ci organizziamo che almeno quella domenica lì si sta tutti aperti per dire chiudiamo sulla domanda delle domande perché tutti solidari con il chiaro buco tutti solidari con chi è stato preso di mezzo nessuno ha particolarmente sulla cosa vuoi dire già vedete che stai già iniziando a prendere delle teorie complicate nessuno ha fatto solidarietà all'assessore ma perché Tasi ha lasciato la camicia all'assessore ieri c'è stato un messaggio su un post su città di cento un pochino criptico dove però mi sembrava ci fosse un tentativo di solidarizzare con me addirittura non ne sono sicuro ma si parlava di uno di Pieve che ha fatto in preso ma ho avuto quella percezione però a parte non è che parlavano di Bargellini magari può essere legato a Tasi Bargellini buonanima vabbè comunque a parte a parte questo ma nessuno ha solidarizzato con me perché devo dire che a parte che l'ho presa molto a ridere per fortuna ma con grande spirito tra l'altro e poi insomma voglio dire con me è stato sicuramente anche leggero anche se mi è parso di capire che a Sanremo non ci devo più andare perché è il secondo anno di fila che mi tiro in mezzo ho capito anche che le luminarie di Natale non sono piaciute a Tasi se vogliamo essere proprio onesti non sono state gradite della maggior parte di chi ha giudicato non la luminaria in sé ma lo stile insomma è un messaggio che mi è arrivato però devo dire che la parte dove mi si rimprovera buonariamente di essere sempre in vetrine ogni giorno a un'inaugurazione la rivendico con orgoglio per le ragioni di qui sopra siamo ogni giorno a un'inaugurazione perché fortunatamente va anche così si inaugurano quindi questa narrazione della città morta di cui parlavamo sembra non essere così vera non è così vera non lo penso io non lo pensa la mia amministrazione e a quanto pare non lo pensa nemmeno Tasi quindi siamo già in tre sembra quasi che l'assessore stia dando dello s***o a Tasi no dai a parte tutto è una cosa sulla quale questa questa narrazione della città morta è veramente è veramente un pochino stancante perché io credo che fra le cose che ci servono assolutamente per rilanciare 100 per riposizionarla perché anche rilanciare non è un termine che mi piace perché siamo già lanciati secondo me però dobbiamo riposizionare accelerare ancora alzare il livello è orgoglio cioè noi dobbiamo essere orgogliosi questa è una cosa che la città sta recuperando l'ha recuperata con la pinacoteca la recupererà con gli altri luoghi insomma che che stiamo stiamo cercando di riaprire di restituire che sono luoghi tutti identitari però dobbiamo iniziare veramente questo orgoglio a viverlo cioè dire che 100 è una città morta non è soltanto falso perché è falso sì non è riscontrabile e voglio dire venite una qualsiasi sera 100 prima lo diceva George andiamo fuori a cena e c'è da mangiare c'è da ci sono locali ce ne vorrebbero di più è vero ma città morta no e soprattutto fa male alla città questa roba è questa roba per me l'impressione che ho chiudo la puntata su questo l'impressione che ho è che tante volte la percezione che il centese ha della propria città non sia neanche lontanamente quella che ha un bolognese di 100 un ferrarese di 100 noi abbiamo questa visione sempre criptica sempre negativa beh l'ha detto anche Tasi che siamo diventati un popolo di poi ha usato una parola insomma però secondo me questa città è attrattiva perlomeno l'abbiamo dimostrato sia col carnevale con la pinacoteca a livello turistico attrattiva in qualche modo lo è piena di negozi con degli artigiani con la PMI con anche delle vecchie grandi imprese che vanno tutti che fanno rete e tra l'altro chiudiamo proprio col cappello se Linea Verde viene a fare una puntata intera su 100 vuol dire che ha qualcosa poi da raccontare giusto? sono pienamente d'accordo con te viva 100 ok diciamolo dai facciamo questa cosa demagogica viva 100 un po' di sano populismo a fine puntata ci sta ci sta viva 100 bene assessore io ringrazio grazie a voi con voi ci vediamo domenica prossima per un altro caffè questa volta tutto rosa ciao se ti è piaciuto questo video iscriviti lascia un mi piace e ricordati che puoi guardare altri nostri video proprio qui sotto